Di nuovo buongiorno, di nuova buona domenica a tutti gli amici di Milanello, 26.000 iscritti con tante prospettive a 6 giorni dal derby che ricordiamo si giocherà sabato alle ore 18 e quindi tra una settimana esatta commenteremo il post sperando di avere un bel sorriso tutti stampato sulle nostre facce rossonere. Vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale appunto in questa zona qua sulla bandierina rossonera è gratis, non costa nulla, entrate a far parte di una community che ha i colori rossoneri nel cuore, questo è un canale che come dico ormai spesso ultimamente però è una definizione che mi piace molto, sprizza rosso e nero da ogni pixel quindi se siete rossoneri anche voi iscrivetevi è doveroso. Like, 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 vi aggiorniamo su tutto, questa mattina abbiamo pubblicato un video in cui si parla dell'attualità, del mercato, del bilancio rispondendo alle vostre domande che avete fatto nella community con Milanello risponde quindi alla fine di questo video vi rimando a vederlo. Tra gli altri contenuti speciali ieri sera abbiamo pubblicato il tour di Simone, il nostro piccolo Simone a casa Milan con le sue emozioni, il suo sorriso, la sua prima volta a casa Milan nel museo che ovviamente ha tanto da raccontare, da trasmettere sul mondo del Milan così come il nostro canale. Veniamo allora all'attualità con una nuova positività per quanto riguarda il derby tra sei giorni, lo ricordiamo e qui siamo arrivati dunque a due positivi per il Milan, sei positivi per la seconda squadra di Milano. Il Milan è fermo, si fa per dire, speriamo che questo numero non aumenti o magari cali, ha Duarte che fuori da diverso tempo, questo martedì saranno tre settimane, mentre Gabbia è questione come sappiamo molto fresca e sicuramente al derby non ci sarà. Dall'altra parte invece c'è una situazione un po' più in fermento per quanto riguarda la squadra di Conte perché ha sei positività, attenzione perché a dieci c'è la possibilità di chiedere rinvio ma a determinate condizioni che adesso vi spiego. Ricordiamo chi sono i sei e poi parleremo anche delle novità su Zlatan Ibrahimović. Sono Radu, sono Skrignar e Bastoni in difesa, a centrocampo sono Gagliardini e Nainggolan e si è giunto oggi Young sulla fascia sinistra. Pertanto se arrivano a dieci l'Inter può chiedere il rinvio ma devono essere dieci non da qui a sabato prossimo ma prima la regola dice che una squadra può chiedere il rinvio della partita che deve giocare. Si riscontra dieci casi di positività in sette giorni consecutivi quindi il primo positivo è stato Bastoni ed era il 7 di ottobre quindi possono chiedere rinvio se entro il 14 ottobre hanno dieci positività quindi in sette giorni consecutivi. Il 14 è mercoledì quindi o hanno altri quattro casi di positività diciamo lunedì, martedì e mercoledì oppure non possono chiedere il rinvio come crediamo e speriamo perché siamo in generale per giocare sempre e in questa situazione è inutile negarlo. Dall'altra parte hanno qualche defezione in più il Milan avrebbe un po' più di vantaggio rispetto agli equilibri normali con la loro rosa che comunque è molto più competitiva e tutto sommato può anche rinunciare a qualche pedina. Mi auguro che non ci saranno pressioni perché ad esempio Marotta e Conte spostino la partita perché non provino loro a far spostare la partita in virtù di queste ulteriori defezioni. Speriamo che non facciano i furbi come hanno fatto a Napoli con la questione Juve-Napoli che tiene ancora avanco e che mercoledì porterà una sentenza definitiva. Anche perché quando il Milan aveva fuori Ibrahimovic nessuno ha detto ma forse è il caso di non giocare la partita. Quindi speriamo dunque che si vada in questa direzione e che il derby si giochi altrimenti non si riesce davvero a portare avanti il campionato. In termini pratici l'Inter perde dunque due difensori titolari che sono Skrignar e appunto Bastoni con Skrignar che sta facendo addirittura la quarantena in Slovacchia nella sua nazionale nella sua nazione. Perde poi due centrocampisti non titolari ma panchinari che sono Nainggolan e Galliardini. Ha già perso Sensi perché sicuramente è squalificato e Young che a sinistra potrebbe fare il titolare. A quel punto credo che loro giocheranno in difesa con De Vrij a destra D'Ambrosio e a sinistra Kolarov degli adattati sostanzialmente non dei difensori centrali. Poi hanno anche l'opzione di Ranocchia ma non credo dall'inizio. A centrocampo Brozovic e Barella. A destra Kimi. A sinistra invece a questo punto Perisic con Vidal, Lautaro e Lukaku. Unica alternativa a centrocampo che va in panchina tra i centrali è Eriksen. Anche se sappiamo non è molto preso in considerazione dall'ambiente ma soprattutto da Antonio Conte. Qualche giorno fa ha detto non voglio fare la panchina tutta autunno altrimenti me ne vado. Ma questi sono problemi loro. Il Milan invece ha fuori Duarte e Gabbia. Se riusciamo a recuperare Duarte è una cosa buona. Non tanto per il valore del giocatore che non ha mostrato grande affidabilità. Ma perché almeno recuperiamo un difensore centrale. Il Milan ha una situazione di difesa di emergenza visto che ha soltanto Chiar in piena condizione. E Romagnoli che ha recuperato ma è ancora indietro nel senso che non ha mai fatto una partita da diversi mesi. Era luglio l'ultima quando si è fatto male. E quindi credo che avrà un'oretta nelle gambe. Se gli fai fare 90 minuti ti prendi il rischio che magari gli venga un'ulteriore ricaduta. E quindi se dopo un'ora non ce la fa più devi arretrare Chessy e giocare con Tonagli e Benassera a centrocampo che va bene. Ma soprattutto adattare dietro Chessy giocando contro Lautaro, Lukaku oppure anche Sanchez obiettivamente non è il massimo. Bisogna fare di necessità virtù. Se recuperi però Duarte hai quella opzione lì. Non so se effettivamente sarebbe meglio Duarte oltretutto dopo questa positività così lunga oppure Chessy. Probabilmente saremo più tranquilli nonostante tutto con Chessy arretrato e non il brasiliano Duarte. Zlatan Ibraimovic ieri ha ottenuto l'idoneità. Ovviamente ha presentato i documenti con i tamponi fatti dalla TS. Nel pomeriggio poi era andato a Milanello incontrando la squadra ma non si è allenato. La squadra si era allenata al mattino. Oggi si è allenato in gruppo quindi è pienamente a disposizione. È pienamente recuperato. Lui si è allenato a casa col tapirulante, ha fatto esercizi. Si è tenuto in forma e in condizione. La notizia migliore è quindi che lavorando subito in gruppo dimostra di non avere nessun tipo di problema e di condizionamento dopo quello che ha avuto. Quindi avrà altri giorni fino a sabato per allenarsi, per mettere minuti nelle gambe, per mettere energia nel corpo e nella mente anche se di quello non ne ha bisogno. E sabato sarà in campo dall'inizio e si prenderà sulle spalle il Milan. L'altra notizia che attendiamo con ansia ovviamente riguarda Rebic che martedì o mercoledì farà un altro consulto col professor Castagna. E da questo dipenderà la convocazione o meno sabato nel derby. Convocazione non vuol dire impiego dall'inizio perché colui comunque in queste settimane dopo quel infortunio sfortunato con il Crotone non si è potuto allenare. Per ovvi motivi e quindi atleticamente ha fatto un passo indietro rispetto alla condizione precedente. Però come lo chiamiamo spesso anche nelle cronache è un soldato, il soldato Rebic potrebbe anche dire me la sento, sto bene, gioco dall'inizio. Chi se ne frega del gomito che potrebbe avere comunque una protezione. Vediamo, non poniamo limiti alla provvidenza. A oggi la formazione del Milan comunque senza Rebic è questa. Donna Rumo in porta, a destra Calabria, i centrali Romagnoli e Chiaer con l'opzione che si è arretrato a gare in corso. A sinistra Teo Hernandez, a centrocampo credo Ben Nasseri che sì ma vediamo come rientrano dalle loro nazionali. Sulla tre quarti credo che non rinuncerà Salemacher sulla destra. Ce l'hanno ovviamente al centro, nella dorsale, a sinistra vediamo come se può lanciare Aughe che è quello che atleticamente sta meglio. Oppure Leao, anche se Leao può essere l'arma da giocare a gare in corso, soprattutto se Ibrahimovic magari ha bisogno di un aiuto. A oggi comunque io dico Leao a sinistra e Ibrahimovic davanti. Questo potrebbe essere l'undici in attesa di capire se recupereremo magari anche Rebic. A quel punto potrebbe essere Rebic e Ibrahimovic, quindi il miglior Milan possibile. Speriamo, incrociamo le dita, altri aggiornamenti magari nel corso della giornata, della serata o domani. Domani avremo un video speciale sulla griglia di ripartenza. Come vedo io le squadre in chiusura di questo campionato quando il mercato è stato concluso e quindi abbiamo gli elementi giusti per analizzare la situazione. Vi ricordo di mettere il like, ben augurante nella settimana che ci porta al derby e l'iscrizione in questa zona. Cerchiamo di arrivare magari a 27.000 iscritti sabato nel derby. Non è facile ma proviamoci. Chi ha il Milan nel cuore, clicchi qui, si iscriva, è gratis e attivi la campanella. Ciao a tutti! Ciao a tutti!